carissimi ci sono tutti da parte mia oggi recensiamo questo masterizzatore tv di usb 3.0 ultra portate e ultra sottile da collegare i nostri computer portatili ma anche ai nostri sistemi desktop con un'ampiezza di banda di trasferimento molto elevata grazie all'usb punto 3.0 parliamo di un massaggio del input di otto per mentre invece la massalizzazione per icd e di 24 per ecco la scala unboxing ovviamente già fatto molto leggera la buttiamo via ecco il nostro prodotto partiamo dal manuale di istruzione modello ppc 0 10 b in via su amazon.it parliamo di questo prodotto davvero ultra portatile scusa capitano america guardate un pochettino nella parte sottostante abbiamo il cavetto usb 3.0 abbiamo tutte le specifiche funziona con alimentazione da 5 volte direttamente inserita all'interno della nostra presa usb 3.0 il lettore davvero ultra compatto misura 14 circa 15 cm x 15 per uno spessore di 1,5 piedini anti scivolamento molto comodo da portare in viaggio nel caso dovesse servire un masserizzatore di dvd molto bello anche il tipo di plastica utilizzato con questo disegno che mi dà un pochettino il sapore dei portati della samsung ma lo utilizzerò sicuramente con il mio macbook air il nostro lettore dvd portatile l'ho testato su windows 10 devo dire la vita funziona anche se nelle specifiche porta qualche piccolo problemino ma non ne ho riscontrati ora proviamo sul macbook air all'interno inserito un disco il sistema direttamente plug and play vi faccio vedere spostiamo un pochettino il nostro mac più qui mettiamo il nostro cavetto usb 3.0 all'interno della della presa l'interno abbiamo messo un dvd vi faccio vedere eccolo qua ci andiamo andiamo ad aprire il nostro disco intanto inizia a girare e mac immediatamente lo riconosce assolutamente ecco che compare l'icona parte direttamente il dvd funziona funziona veramente in modo egregio assolutamente perfettamente funzionante assolutamente facciamo ai spelli direttamente il dvd quindi il sistema funziona perfettamente con macbook air e anche il sistema desktop quindi questo prodotto è meno ad un prezzo davvero incredibile su amazon.it chi volesse scrivere perché le informazioni può farlo a gianluca.attanasio croccialai.it un saluto da parte mia e dagli amici che mi seguono e ci vediamo la prossima recensione ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti